Mancato pagamento di decine di artisti e di gruppi musicali che si sono esibiti negli spettacoli degli eventi L'Aquila Suona e dei Cantili dell'Immaginario. E poi la vicenda di Lucid Artista, le luminarie che hanno rivestito la città durante il periodo natalizio finanziate con 15.000 euro dall'amministrazione comunale e 85.000 dall'ente camerale, appalto affidato senza una gara ma con affidamento diretto. A denunciare le strutture di una cattiva gestione del comparto culturale della città, al di là delle polemiche politiche che stanno investendo il comune in questi giorni, con risvolti negativi sulle aziende e sui lavoratori, è Gianfranco Giorgi della FP CISL della provincia dell'Aquila, per il quale, al di là delle scelte politiche, l'ex assessora alla cultura Sabrina Di Cosimo dovrebbe chiarire perché non sono stati pagati gli artisti e perché si siano spesi tanti soldi per una manifestazione come il Lucid Artista. Noi riteniamo che i lavoratori quando lavorano devono essere pagati, ci sono decine e decine di artisti che hanno suonato, cantato, hanno fatto il loro lavoro e a tutt'oggi ancora non vengono pagati e non si capisce il perché. Ci dicessero per quale motivo, ecco, loro non pagano queste persone. Voi della CISL siete anche disposti ad andare oltre, quindi a fare ad esempio una richiesta di accesso agli atti? Potremmo anche andare oltre, adesso la valuteremo questa situazione, com'è, a meno che non ci rispondano e ci chiariscono le motivazioni per cui non tirano fuori i soldi, vediamo. Poi abbiamo citato anche il discorso delle luminarie e, diciamo, delle luce d'artista che pure lì, insomma, vorremmo sapere come mai c'è stato un affidamento diretto. Alcuni enti culturali, inoltre, devono ancora incassare i pagamenti della perdonanza 2018 e i fondi Cipe del 2016. A causa di questi mancati trasferimenti, i dipendenti della Sinfonica, compresi i musicisti, non prendono lo stipendio da quattro mesi, quelli dei solisti addirittura da sei, a cui si aggiunge la richiesta di pagamento dei creditori.